Musica Ben ritrovati da Pasqualino Rettura per il nuovo appuntamento con i giornali in tv dando un rapido sguardo alle notizie principali che troviamo sui vari quotidiani, intanto sui quotidiani regionali e rompe la notizia che riguarda 30 comuni della Calabria, fra questi 30 comuni della Calabria c'è anche la mezzia terme, il tutto è riferito all'abusivismo edilizio, la regione Calabria ha commissariato 30 comuni in Calabria per inerzia in relazione all'abusivismo edilizio e fra questi 30 comuni commissariati per l'abusivismo edilizio c'è anche il comune di la mezzia terme, questa è una notizia principale che leggiamo dai quotidiani oggi in edicola infatti Gazzetta del Sud, lo titola proprio in prima pagina, inerzia di fronte agli abusi edilizi, scrive Gazzetta del Sud, la regione commissaria 30 comuni, fra questi c'è anche la mezzia terme, poi andremo all'interno ad approfondire questa notizia. Intanto per iniziare il nostro appuntamento con Gazzetta del Sud online, dai comuni commissariati per abusivismi edilizi andiamo, restando sempre in tema di comune, al comune di Vimbo dove c'è la questione che riguarda il rimpasto in giunta, la nuova giunta che il sindaco Limardo ha detto che, lo avevamo già ricordato nelle precedenti edizioni dei giornali TV, ha detto che prima di ferragosto ci sarebbero stati nominati 9 assessori, comune di Vimbo cercansi assessori, scrive Gazzetta del Sud. Andiamo al comune di Crotone, debito con Sorical per il servizio idrico, i comuni di Congesi cercano la quadra, restando ancora in tema di enti locali, quindi comuni, il comune di Catanzaro perde 15 milioni di Euro con la rimodulazione del PNRR, ne avevamo parlato nei giorni scorsi, il comune di La Mezza ne perde 9 di milioni di Euro per la rimodulazione dei fondi del PNRR. A proposito di crisi, maggioranza, questioni politiche nei vari comuni, il comune di La Mezza Terme nei giorni scorsi c'è stata una seduta del Consiglio Comunale piuttosto movimentata, da questo punto di vista interviene il sindaco Mascaro oggi su Gazzetta del Sud, smorsa i toni, rassicura tutti, dicendo la maggioranza è compatta. C'è un'altra notizia di un incidente, questa volta uno scontro fra due auto a Satriano, quindi siamo nel Soveratese, in Viale Europa, due feriti in ospedale. Poi andiamo a una dichiarazione, a una questione che ha segnalato l'attrice calabrese Vittoria Belvedere, non giocare con quella terrona, lo sfogo dell'attrice calabrese Vittoria Belvedere, discriminata quando da Vimbo arrivai in Brianza. Medici Cubani è un'altra questione molto attuale, anche perché sono arrivati altri 120 medici cubani nei giorni scorsi in Calabria, medici cubani a Crotone, l'accoglienza dell'Associazione Nazionale Amici d'Italia, il territorio ne gioverà. E poi paura a Marina di Zambrone, un 71enne precipita dallo scoglio del Leone a Zambrone e in condizioni critiche. Paura anche a Crotone per un incendio in località Poggio Pudano. La questione che riguarda un'altra questione molto attuale, il rimpasto in giunta al Comune di Catanzaro, sono stati presentati i nuovi assessori, quindi Fiorita ci siamo, ecco la redistribuzione delle deleghe, quindi niente pubblica istruzione per Monteverdi ed edilizia per Scalizia. Quindi il sede di Catanzaro ha compiuto il rimpasto in giunta. Un anno fa, una terribile tragedia, il terribile pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, la mamma dice lo accarezziamo ma non c'è più speranza per questo giovane brutalmente aggredito un anno fa esattamente un anno fa a Crotone, questo giovane di Bologna che si trovava a Crotone in vacanza e fu brutalmente aggredito perché purtroppo scambiato per uno scambio di persone. Poi atropea, costone del santuario dell'isola, ancora a rischio crolli, ma il pericolo non ferma i turisti e ancora aggredisce e minaccia il fratello Lalite per futili motivi a Vibbo e poi a Catanzaro forza un'auto per rubare una borsa e aggredisce pure il proprietario. Questo era appunto sulle pagine di Gazzetta del Sud con cui abbiamo iniziato oggi il nostro appuntamento con i giornali in tv, arrestando sempre online, andiamo anche al sito online lamettino.it, al via il grande esodo di Ferragosto, scrive lamettino.it, previsto traffico intenso anche in Calabria. Poi c'è un'operazione in queste ultime ore, cosiddetta declino, operazione declino, luce sulla latitanza del boss d'Indrangheta Crea, 8 arresti nel Regino e andiamo ad un'altra notizia, sanità, è morto il manager Giuseppe Profiti che era stato commissario di Azienda Zero, stroncato da un infarto. Anche su lamettino.it la notizia principale che dicevamo, abusivismo edilizio, la regione commissaria, 30 comuni per inerzia, quindi c'è anche la mezzia. Operazione Wave sulla costa del Cosentino, 13 denunce e 2 strutture sequestrate, scoperti lavoratori irregolari. E poi per un tentato omicidio contro un imprenditore del Regino nel 2017 ci sono stati 4 arresti. questo era su lamettino.it, quindi abbiamo letto anche qualche notizia sulla home del lamettino.it. Andiamo ora all'edizione Calabria del quotidiano del Sud, andiamo a vedere la prima pagina, dicevamo dei medici cubani, un altro tema di stretta attualità, i medici cubani prendono servizio entro Ferragosto in Corsia. La seconda brigata di 121 specialisti ha ormai completato il corso d'italiano e tra sei mesi saranno anche negli ambulatori per abbattere le liste d'attesa. La questione, la tragedia del giovane Davide Ferrerio, parla la mamma sul quotidiano del Sud, traditi da Crotone, non torneremo più in questa città. Ad un anno dell'aggressione parla la mamma di Davide Ferrerio. Anche sul quotidiano del Sud in prima pagina, abusivismo edilizio, la regione commissaria 30 comuni, la storia, psicoanalisi per tutti in Calabria, il modello Jonas, premio Caccuri. Anche qui dopo le bacchettate per il Galle, gruppo azione locale e i consorsi di bonifica, arrivano anche le bacchettate di Gratteri all'ONU e all'Europa nel corso del premio Caccuri. Lutto alla regione Calabria è morto il commissario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti. PNRR, il sottosegretario Vandaferro dice, opere definanziate semmai messe in salvo, la vede diversamente Vandaferro, comune di Catanzaro, rimpasto è maggioranza più ampia, l'Anatra non è più zoppa. Poi Gio Calabria si parla del bergamotto, le questioni del settore sul tavolo del ministro, il settore del bergamotto, poi comune di Vibbo, l'assessore russo dice, ho dato tutto per la città e poi Crotone, la compagnia rassicura, i voli per Roma saranno sicuri. Poi andiamo a Siderno, in fiamme addirittura 14 mezzi della Locride Ambiente, a Cetraro, le note libere di Geof Weasley. Reggio Calabria, è stata scoperta a Reggio Calabria una discoteca all'aperto che era abusiva, questa era appunto sulla prima del quotidiano del Sud, come sempre poi in prima vengono, ricordate quello che poi sono tutti gli appuntamenti in programma in questi giorni in Calabria nell'inserto estate, c'è l'intervista a Santa Croce che presenta il festival d'autunno, poi in copertina dell'inserto estate, avvistamenti teatrali a Torre Marrana, questo era appunto sempre sulla prima del quotidiano del Sud, dicevamo delle bacchettate di Gratteri all'ONU nel corso appunto di un incontro al premio Caccure, è stato ospite al premio Caccure, Gratteri all'ONU ha detto che è debole e all'Europa, secondo Gratteri l'Europa è in ritardo, ipocrisia, dice Gratteri nel contrasto antimafia per l'assenza di norme antiriciclaggio e il disimpegno sui subappalti e l'Italia non riesce a bucare le piattaforme clandestine, traffico d'armi, l'Andrangheta farà in Ucraina quello che ha fatto in Bosnia poi sul traffico di droga, Gratteri dice i narcos vendono in Spagna, in Olanda ora ci sono tre mafie, questo quanto ha detto appunto Nicola Gratteri. Poi la storia che oggi viene raccontata dal quotidiano del Sud, la psicoanalisi è accessibile a tutti, Jonas arriva anche in Calabria, un luogo in cui la bellezza è parte della cura, il centro fondato da Massimo Recalcati ha aperto una sede a Reggio Calabria, smentisce tutti Vandaferro, le opere con i fondi del PNRR secondo lei sono state messe in salve, non definanziate, nel piano erano inseriti tantissimi progetti incompatibili, dice Vandaferro, c'erano oltre 4 mila interventi su viabilità non rendicontabili, poi l'intervento, leggiamo l'intervento sul quotidiano del Sud, taglio al PNRR, il governo è nemico della Calabria, dice Nicola Irto, senatore, nonché segretario regionale del PD che interviene sui taglio ai fondi del PNRR. in Calabria dicevamo i medici cubani prendono servizio, Occhiuto dice li impiegheremo anche negli ambulatori per ridurre le liste d'attesa, la seconda brigata di 121 specialisti sarà in corsia entro ferragosto e poi qui sul quotidiano nasce il Fiorita Bis, quindi il comune di Catanzaro, la nuova giunta, progressisti e moderati per rafforzare il sindaco, chiuso dunque il rimpasto in giunta. Intanto sulla città unica Castrolibero, Renda e Cosenza, la replica di Pierluigi Caputo sulla Corte dei Conti, la replica al sindaco di Cosenza Caruso, Pierluigi Caputo dice il sindaco Caruso, legga bene le carte, poi ecco qui la questione dell'abusivismo e del commissariamento in merito all'abusivismo edilizio di 30 comuni, quindi abusivismo commissariati 30 comuni, la decisione dell'aggiunta regionale occhiuto contestata la mancata vigilanza, via libera anche ai contributi per le imprese destinati a mitigare i rincari, quindi andiamo a vedere chi sono questi 30 comuni, ce ne sono tanti, quindi sono anche comuni importanti, sicuramente tra i comuni importanti commissariati per l'abusivismo edilizio c'è anche la mezza Terme, in provincia di Catanzaro oltre la mezza Terme c'è Montauro, anche Nocera Terinese è stata commissariata per l'abusivismo edilizio, nonché Celia Marina è soverato, anche Vibo Valencia ha avuto lo stesso provvedimento, invece la provincia di Crotone è stata commissariata Isola Caporizzuto, sono tanti anche i comuni della provincia di Cosenza che sono stati commissariati per l'abusivismo edilizio. Secondo la Regione Calabria la lotta all'abusivismo edilizio è una priorità per il mio governo, dice il Presidente Occhiuto, lavoriamo per diffondere la cultura della legalità e per difendere il nostro territorio, questo appunto è il commento di Occhiuto, quindi la Giunta regionale ha approvato, leggiamo sul quotidiano del Sud, il commissariamento ad acta di 30 comuni che non avrebbero esercitato la necessaria vigilanza sull'attività urbanistica edilizia in tema di controllo del territorio, repressione, dell'abusivismo e c'è anche la mezza terma fra questi 30 comuni, in pratica che succede? Succede che ora ci sarà un commissario ad acta che si occuperà dell'abusivismo del controllo, della vigilanza, dell'abusivismo edilizio e anche degli abbattimenti, perché quando una pratica diventa definitivamente sentenziata con sentenze appunto passate in giudicato e abusive in giudicato, si deve procedere all'abbattimento, alle demolizioni. Qualche anno fa nel 2009 alla mezza, come si ricorderà, erano 400 le sentenze passate in giudicato e l'allora procuratore della Repubblica di La Mezza Terme, Salvatore Vitello, appunto decretò che queste 400 opere abusive dovevano essere abbattute, le demolizioni, iniziarono le demolizioni su iniziativa del comune di La Mezza Terme, ma dopo poche demolizioni, dopo pochi abbattimenti tutto si fermò, ci furono anche delle proteste anche in città con cortei e quant'altro, tante tensioni allora per le demolizioni di opere abusive. Parliamo di trasversale sulle serre, avanti veloce sulla trasversale, da sindaci e provincia una lettera di soddisfazione al Ministro Salvini, dopo gli ottimi risultati raggiunti si attende alla copertura finanziaria e poi andiamo anche a quello che avevamo letto nella prima pagina, l'intervista alla mamma di Davide Ferrero, ragazzo di Bologna, brutalmente accreditò un anno fa a Crotone per uno scambio di persone, ormai in stato vegetale, questo ragazzo, farai la fine di tuo fratello? Ha un anno dall'abbruttare la questione, parla la mamma del giovane, quindi dopo le minacce i familiari di Davide non torneranno più in città, abbiamo paura, è stata stata anche questa minaccia, poi ancora a Corigliano Rossano, leggiamo questa notizia, sequestra la famiglia dell'amante, è stato arrestato un cinquantenne a Corigliano Rossano, quindi la nuova giunta di Catanzaro, l'anatra non è più zoppa, titola il quotidiano del sud. Andiamo alla mezza terme, dove oltre alla questione che abbiamo letto poco fa del commissariamento ad acta, ci sarà un commissario ad acta per l'abusivismo edilizio, si parla ancora di questioni che riguardano il comune, in questo caso la sezione lavori del comune della mezza terme, titola il quotidiano del sud, è al collasso, quindi mezzi pochi e obsoleti e tutte le segnalazioni finiscono in un imbuto. Grave situazione denunciata dalle associazioni che sollecitano il sindaco per far sì che alla sezione lavori ci siano più mezzi, più moderni e anche più personale. C'è una denuncia da parte di Felicia Villella, del direttivo del PD di La Mezzia, Fontana di Piazza Mazzini in stato di degrado e poi dalle frazioni, strade ripulite per la festa, applauso della Lega, sono state ripulite le strade delle frazioni di Acqua Fredda, San Minammi, Toio, Vonio, il tutto in prossimità della festa della Madonna del Miracolo che esiterà appunto in queste frazioni. Operazione narcotraffico denominata Svevia, a febbraio scorso ci fu questa operazione, sono stati dei ricorsi, un'ordinanza è stata annullata con rinvio, un'ordinanza contro un indagato per il quale era stato disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e questa ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale del Riesame, mentre un altro ricorso è stato respinto dalla Cassazione, il ricorso per Bruno Cappellano, il ricorso respinto, quindi Bruno Cappellano resta in carcere. Andiamo alla questione che riguarda il caso delle quote rose alla società La Mezza Europa, in sostanza è stato rinnovato a marzo scorso il consiglio di amministrazione della Mezza Europa, anche il collegio sindacale, ma non sarebbero state rispettate le quote rose, cioè nel CDA c'è solo una donna, mentre nel collegio sindacale è tutto al maschile, per cui questo caso ora finisce a Palazzo Chigi, in quanto il Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede ora informazioni alla Mezza Europa. La società ha 15 giorni di tempo per inviare i chiarimenti richiesti. Ad Amato quattro edifici per sostenere l'imprenditoria giovanile, saranno chiesti fondi per l'acquisizione di questi edifici da parte del Comune di Amato e poi anche le cantine lamettine al Palio delle Botti che si è svolto sul lungomare di Bianco. A Platania un moderno e irrequieto Ulisse si presenta il libro Coppole Maracaibo a Platania, mentre il concerto per la foresta conclude il festival estivo delle ranze della filoxenia. Poi a Crotone i voli per Roma saranno sicuri, il Presidente della compagnia Skylabs dopo le critiche sui social risponde e dice il nostro obiettivo è avvicinare la Calabria al resto d'Europa. Questo era sempre sulle pagine del quotidiano del Sud, andiamo ancora ad altri territori, a Vibbo le criticità sono sempre là, ennesima lettera di Iannello del PD al Comune, vari problemi oltre a quelli della piazza crollata e dimenticata, il Comune di Vibbo agevolerà la messa in prova dei detenuti e ancora l'ex assessore russo ho dato tutto per la città, perciò ho la coscienza pulita, dice l'ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Vibbo Valencia. A Parghelia il Sindaco Landro vende fumo, il capogruppo di minoranza Daniele Vassinton contesta l'operato della giunta. A Tropea il Festival del Folclore ritorna a colorare il borgo più bello d'Italia e poi a Zambrone Corrado Landolina che è il Presidente della provincia di Vibbo ha fallito su più fronti, crisi politica anche non solo al Comune di Vibbo ma anche alla provincia di Vibbo. Poi a Filadelfia basta con i parcheggi selvaggi, quindi la giunta Bartuc approva un progetto preliminare per realizzare un'area di sosta e evitare i parcheggi selvaggi nel Comune di Filadelfia. Poi questo era sempre sul quotidiano del Sud, ci torneremo tra poco sulle pagine del quotidiano del Sud quando andremo a concludere il nostro appuntamento con lo sport. Intanto adesso andiamo a dare uno sguardo ai principali titoli sulle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola, andiamo dunque a dare uno sguardo intanto partendo dal Corriere della Sera, gelo sul salario minimo, la Repubblica, Kiev sfida sul grano, la stampa, salari, meloni non ci prende in giro, sulla stampa appunto intervista a Eli Schlein, segretaria nazionale del PD. Poi Libero, tentazione Pier Silvio nel nome del padre, tentazione per entrare in politica, poi il giornale eccesso di autovelox, l'allarme, il fatto quotidiano, torna la prescrizione che salvò Berlusconi e Andreotti. Poi la verità, per espellere i potenziali killer bisogna cambiare alla legge, poi il paese va nonostante i gufi, dice il tempo, poi il messaggero, inflazione ancora in calo, ma i prezzi non scendono. Domani guerra sul salario, elite con le banche, meloni e la propaganda d'agosto. L'unità, cambiamogli nome, se non piace a Giorgia, ma una norma contro i salari da fami è urgente. Il manifesto giochi da tavolo, il riformista campo largo da Giorgia, il sole 24 ore, ITS Academy, ecco la riforma più lavoro per i giovani, il mattino, inflazione giù, ma prezzi alti. Andiamo al dubbio, meloni sfida le opposizioni anche sul salario minimo e controproducente. Questo è appunto quanto dichiara Giorgia Meloni, sul salario minimo, poi il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia, la credibilità da preservare, scrive il quotidiano del sud, l'altra voce dell'Italia. Bene, ora andiamo alla parte conclusiva del nostro appuntamento con le notizie che riguardano lo sport. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport, Inter che nove fai, quindi la lunga estate calda degli attaccanti. Corriere dello Sport, Osimèn resta, quindi il Napoli avverte gli arabi e la gente di Viktor Osimèn. Poi di spalla Arnautovic ha scelto, vuole l'Inter. Lukaku Juve si va avanti su tutto sport. Max, sentito Cambiaso, sono qui per attaccare, non per difendere. La nuova Juve nasce con lo spirito offensivo e per avere fasce più ficcanti giuntoli va su Carlos Augusto. Sul quotidiano sportivo QS, Inter e Juve cambia tutto. Parlando appunto di mercato, questo era sempre sui quotidiani sportivi nazionali. Intanto inizia la Coppa Italia, Coppa Italia di Serie A e Serie B. Poi andiamo alla Serie B, a proposito di Serie B, andiamo alla Serie B sul quotidiano del Sud. Cosenza, Manuel Marras c'è, l'affare è concluso, arriva all'ufficialità del ritorno di Praslic, quindi ha sostenuto già le visite mediche Marras. Andiamo in Serie D, il difensore Monteleone alla Gioiese, mentre per il Locri salta la trattativa spagnola, la situazione adesso è tornata a farsi complicata, la situazione societaria del Locri. Poi nei dilettanti una novità per il San Luca e per la Vigor. Ancora andiamo allo sport del quotidiano del Sud. La regina in A, ci credevo, il tecnico inzaico, volevo questo traguardo, ora mi fermerò un po'. Insieme all'allenatore andranno via anche gli altri calciatori, Serie C, il Crotone, Punta Tumminiello e non molla la presa su Ferrari. La giovane punta era in prestito alla Gelbison. Poi andiamo al Volley, Tonno Caglipo, Luciano Mille, nuovo acquisto. Poi andiamo al calcio femminile, Sporting e Catanzaro Lido, tre rinnovi, Puleo, Folino e Riccelli. Questa era una notizia che riguardava il calcio femminile. Diciamo della Coppa Italia, il Catanzaro esordisce a Udine, eccellenza, rivoluzione totale in casa del Bocale, scrive il quotidiano del Sud. Poi ancora calcio a 5 per la Pirossigeno Cosenza, il debutto sarà in trasferta in casa del Sala Consilina. Poi andiamo al nuoto, trofeo per la Dello Ionio, grande successo, perfettamente riuscito l'evento della Calabria, Swing Race. Tornei estivi, sana aggregazione nella scuola calcio Real Amantea, un'estate ricca di partite. A proposito di calcio a 5, in questo caso torniamo a parlare di calcio a 5 femminile, perché alla Mezzia c'è una squadra che nella massima serie, che ha ottenuto la massima serie per la seconda volta, ha ottenuto la massima serie del calcio a 5 femminile, che la Royal Team, la Mezzia, giocherà in Serie A, in Serie A 1. Nei giorni scorsi è stato già reso noto il calendario della massima serie del calcio a 5 femminile, che vede ai nastri di partenza la formazione la metina Royal Team, la Mezzia, del Presidente Nicola Mazzocco. e quindi siamo arrivati anche per quest'oggi con lo sport, come sempre a concludere il nostro nuovo appuntamento con i giornali in tv, come sempre da Pasquale di Oretture è tutto, grazie per averci seguito fin qui con i giornali in tv, vi diamo appuntamento alla prossima edizione.